Tenevano segregato in catene un giovane disabile psichico. Due persone, i tutori del disabile, sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Naro. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dal sostituto Gloria Andreoli. Il giovane, trentenne, era legato a letto con una catena, poteva alzarsi e fare solo qualche passo un metro circa alla lunghezza della stessa. Appena arrivati nell'appartamento, gli uomini dell'arma hanno da un lato tranquillizzato il giovane che li ha anche aiutati a liberarsi e dall'altro hanno fermato i tutori che si sono mostrati meravigliati. Da troppo tempo giravano in paese notizie su quella casa degli orrori.